Arrivano a Trieste da migranti irregolari e finiscono per lavorare per la stessa organizzazione criminale che li ha portati in Italia, diventando dei passeur specializzati nell'attraversare la Slovenia lungo percorsi secondari e poi valicare la frontiera con l'Italia. Stando agli investigatori vanno a recuperare i gruppi nei boschi al confine della Croazia per poi, sfruttando le loro capacità linguistiche con persone tipicamente della stessa etnia, snocciolano sul campo i segreti del mestiere per concludere positivamente quello che in gergo viene chiamato The Game, il gioco, per così dire, di completare la rotta balcanica per approdare in Italia dove fa richiesta d'asilo o ripartire verso il centro o nord Europa. Soldi facili, quelli che stavano incamerando i quattro pakistani arrestati la mattina dell'8 novembre dalla polizia di frontiera, forse utili proprio a riprendere il viaggio verso nord. I primi, un 32enne e un 20enne, sono stati individuati in breve dagli agenti. Entrambi erano già entrati illegalmente sul territorio nazionale il 3 e il 4 novembre. In quell'occasione, mescolandosi tra gli altri, l'avevano fatta Franca. Questa volta, invece, è stato in breve appurato il loro ruolo di guida del gruppo di 31 persone di nazionalità afghana, pakistana e bengalese fermate in località Mattonaia, a Sandorligo della Valle. Un video dimostrativo dell'ingresso in Italia in possesso a tre migranti dello stesso gruppo e il contenuto di una chat di WhatsApp hanno incastrato non solo i due soggetti nel loro ruolo di passer, ma anche altri due cittadini pakistani di 21 e 24 anni, tutti in possesso del Vademekum per portare a buon fine l'ingresso nel nostro paese. Il quartetto è finito in carcere su disposizione del PM Federico Frezza, che ha disposto il fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Da settembre sono 20 i passer intercettati e arrestati dalle forze dell'ordine, un numero altissimo se si considera anche la stagione ormai autunnale, in cui normalmente i flussi di arrivi tendevano tradizionalmente a ridursi, e invece quest'anno hanno subito un evidente incremento.